Consigli a un giovane analfabeta che vuol darsi alla letteratura attratto dal numero dei premi letterari. Chi apre il periodo lo chiuda. È pericoloso sporgersi dal capitolo. Cedete il condizionale alle persone anziane, alle donne e agli invalidi. Lasciate l'avverbio dove vorreste trovarlo. Chi tocca l'apostrofo muore. Abolito l'articolo, non si accetta reclami. La persona educata non sputa sul componimento. Non usare l'esclamativo dopo le 22. Non si risponde degli aggettivi incustoditi. Per gli anacoluti servirsi del cestino. Tenere i soggetti al guinzaglio, non calpestare le metafore, i punti di sospensione si pagano a parte. Non usare le sdrucciole se la strada è bagnata. Per le rime rivolgersi al portiere. L'uso del dialetto è vietato ai minori dei 16 anni. È vietato servirsi del sonetto durante le fermate. È vietato aprirsi le parentesi durante la corsa. Nulla è dovuto al poeta durante il recapito.